Parliamo ora della SLA, una malattia difficile non soltanto per i pazienti ma anche per i familiari che si trovano ad affrontare da soli, oltre che alla sofferenza, anche le notevoli spese della cura. Alessia Schiaffini. È un peso immenso che non colpisce solo me ma anche chi mi sta vicino. Paolo faceva il musicista, suonava il flauto. In un anno e mezzo la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, lo ha inchiodato sulla sedia a rotelle. Per lui zero assistenza, non gli è stata riconosciuta nemmeno l'indenità di accompagnamento e come lui molti degli altri 5.000 malati italiani di SLA, troppo spesso lasciati soli con le loro famiglie. Quanto costa assistere un malato di SLA? Dai 2 ai 5.000 euro al mese a famiglia. Ci sono persone che perdono il lavoro, persone che vendono beni di proprietà per mantenere l'assistenza. Un'assistenza che dovrebbe fornire allo Stato. E per ricordare tutto questo, oggi un convegno a Roma organizzato dall'Associazione Viva la Vita. È un libro, oltre il soffitto, che fotografa la situazione di abbandono dei malati. Poche ore a settimana di assistenza quando va bene e pochi aiuti economici e attrezzature tecniche. Quello che io chiedo alle istituzioni è attenzione e sensibilità, perché mancano entrambe.